Buonasera e bentrovati al studio del dentista di Telebue. Questa sera sulla mia sedia c'è il professor Stefano Schiavon. Che ruolo ricopre lei all'interno dell'Università di Padova? Io sono docente della Facoltà di Agraria, mi occupo di nutrizione e alimentazione animale e sono presidente del consiglio di corso di laurea in Scienze e Tecnologie Animali. Descrive il suo corso in una frase. È un corso che cerca di offrire agli studenti una visione integrata di quelle che sono le problematiche inerenti all'allevamento degli animali per la produzione di alimenti per l'uomo e nella salvaguardia dell'ambiente. Nella sua biografia compaiono delle parole che per una povera e ignorante come me o comunque uno che non si occupa del suo settore sono un attimo inquietanti come accrescimento chimico corporeo dei suini. Questo chimico legato a qualcosa che poi verrà mangiato non è che suona proprio benissimo. Ci può spiegare meglio? Accrescimento chimico corporeo significa sostanzialmente studiare come si evolve la composizione corporea dell'animale in termini di acqua, proteine, lipidi e ceneri. Quindi possiamo tranquillamente continuare a mangiare le salsicce senza paura di essere inquinati da qualcosa di non naturale. Diciamo che l'obiettivo di questa definizione è quello di ottimizzare da un lato le risorse alimentari, le risorse naturali in modo tale da ottenere comunque delle prestazioni produttive accettabili salvaguardando la qualità da un lato degli alimenti e l'ambiente ovvero sia il possibile inquinamento derivante dall'escrizione di sostanze nutritive come l'azoto o il fosforo. Nel laboratorio di Edimburgo dove è nata la famosissima pecora Dolly allevano galline transgeniche che poi produrranno uova medicinali, almeno così dicono. Il giorno che quelle galline ormai vecchie moriranno pensa che finiranno in un bel brodo oppure possiamo stare tranquilli su questo fronte? Io non so che fine faranno quelle galline o quella pecora. Speriamo non sulle nostre tavole, mi auguro. Non credo che gli aspetti legati alla transgenicità possano avere degli effetti particolari sulla salute dell'uomo. Sono aspetti che vanno senza dubbio considerati dal punto di vista scientifico prima di metterli nella catena alimentare. Quindi lei pensa che gli alimenti transgenici non abbiano poi un influsso negativo sull'essere umano? Non si può dire a priori una cosa del genere, no? Occorrono ovviamente delle sperimentazioni e delle valutazioni, ma sulla base delle conoscenze attuali non ci sono dei particolari motivi, delle evidenze così particolari che possono indurre a pensare che ci possono essere degli effetti negativi. Credo che ci siano degli aspetti più importanti legati alla presenza di contaminanti negli alimenti degli animali, non so, micotossine, fattori antinutrizionali, cose del genere. Cos'è orribile. Esatto, che sono molto più naturali. Ma parlando di lei, voglio parlare di lei, che studente universitario era? Com'è andata la sua carriera universitaria? Beh, già questo inizio mi rincuora, perché di solito i professori sono tutti bravissimi, non sono mai stati bocciati, non hanno mai avuto problemi. Ma io devo dire la verità, io ho fatto il tecnico agrario e alla fine del mio percorso didattico, quel tempo ho detto, non sono proprio convinto di affrontare l'università, mi prendo una pausa, ho fatto un servizio militare. Nel frattempo mi ero anche iscritto, visto che in qualche modo riuscivo ad affrontare senza difficoltà gli studi universitari. E questo poi l'ha portata a essere... Sì, poi mi sono così entusiasmato anche degli studi che facevo da gradi, è molto bella come varietà di studi. Sì, di che cosa si occupa? Beh, io mi occupo di nutrizione e alimentazione degli animali, ma per parlare della facoltà diciamo si va dalla semplice matematica fisica, le materie di base, allo studio dell'agronomia, quindi delle produzioni vegetali... È cosiddetto delle tre A, giusto? Esattamente. Quindi A come? Agricoltura. Agricoltura. Alimentazione e ambiente. E ambiente, ho capito. Ma lei ha mai accettato un 18? No. Non ha mai accettato un 18? Un 20 l'ho accettato. Eh, vabbè, comunque insomma... Tra 18 e 30, sempre restando nell'ambito dei voti, che valutazione dà ai mezzi che le mette a disposizione la facoltà per le sue ricerche? Qua i voti vanno accettati tutti, quindi sicure... Ma non è tanto la facoltà che dà l'opportunità di fare delle ricerche, quanto la capacità di muoversi nel fare delle proposte progettuali che possono avere una valenza internazionale, nazionale o regionale. Sta più nella propria iniziativa che non nelle regole che la facoltà si dà per gestire questa cosa. Non è un problema di fondi? Alla fine lei pensa di avere comunque... Ma io penso che in parte è un problema senza dubbio di fondi. Sì. In parte è legato anche alla... Ha la capacità, diciamo, di interpretare correttamente quelle che sono le problematiche che necessitano una soluzione, no? Quindi della progettualità. Nei mezzi di comunicazione, quindi televisione, stampa, radio, si fa molto spesso uso di termini come metanolo, alghe, diossina, mucca pazza, SARS. Insomma, sembra che il mondo sia praticamente affetto ad ogni tipo di malattia. Ma secondo lei si tratta di un allarme oppure è in realtà una cosa effettivamente presente? Cioè sono più scoop oppure è una fotografia reale? Entrambe le cose. Nel senso che su certi argomenti c'è un po' di terrorismo mediatico, su questo non c'è dubbio, che non si basa tanto su delle dimostrazioni scientifiche ma si basa più su delle paure che in qualche modo si vuole creare, diciamo, nella popolazione, no? Certo. In altri casi ci sono dei problemi reali. Se vi parla, per esempio, di diossina, ci sono dei problemi legati al fatto che questa molecola è dannosa in quantità molto, molto basse e quindi chiaramente ci sono difficoltà analitiche. Però c'è anche da dire che per la diossina negli ultimi 15 anni i livelli ambientali si sono ridotti moltissimo nel momento che sostanzialmente questa sostanza si originava dai processi di combustione non regolati bene dalla legislazione. Non entriamo nello specifico che noi siamo giovani, semplici e non sappiamo tutte queste cose. Grazie.